Sono dieci le persone rimaste ferite in maniera non grave per i danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.8 sull'Etna e quanto emerso dalle due riunioni che si sono tenute al centro coordinamento dei soccorsi convocato dal prefetto di Catania Claudio San Martino tracciato un primo bilancio provvisorio dei danni con i crolli di muri e case e danni alle chiese soprattutto a Fleri frazione di Zafferano e Tnea e della chiusura a scopo precauzionale del tratto tra Cireale e Giarre dell'autostrada A18 Catania Messina per le lesioni presenti sull'asfalto della carreggiata vicino ad Cireale. Sono state 190 le telefonate giunte tra le 3.23 e le 7 del mattino al 112 di cui 150 smistate ai vigi del fuoco e 40 al settore di intervento medico. Sono 600 gli sfollati per il terremoto che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei e il dato emerso dalle richieste presentate alla regione siciliana che ha redatto una convenzione con federalberghi per poterli ospitare strutture turistiche. Altre persone che pur non vivendo in case dichiarate inagibili ma hanno paura di rientrare a casa saranno ospitate in palazzetti e lo sport dove potranno trascorrere la notte. Sul vulcano attivo più grande d'Europa gli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una decina di scosse ma di bassa energia. I tre interventi maggiori alle 4.40 a Zafferano e Tnea di magnitudo 2.0 e ipocentro a due chilometri di profondità gli altri due su un altro versante a Regarna alle 21 e 14 di ieri di magnitudo 2.3 e a seguire alle 2.18 di magnitudo 2.1. Quello delle 3.19 di notte del 26 dicembre è considerato dall'istituto come uno dei terremoti più energetici mai registrati sul vulcano. L'evento sismico di magnitudo pari a 4.8 è stato ampiamente avvertito dalle popolazioni residenti in quasi tutto il comprensorio catanese provocando danni e alcuni feriti nelle aree più prossime all'epicentro. Per gli esperti il sismo è legato all'attivazione della faglia Fiannaca e della faglia di Pennisi due delle strutture più meridionali del sistema tettonico delle Timpe. L'Etna è un sorvegliato speciale continua l'eruzione iniziata la vigilia di Natale anche se con un calo dell'energia. Dai crateri sommitali si alzano ancora intense colonne di gas e cenere lavica legata all'attività stromboriana dei crateri che non impatta però con l'attività dell'aeroporto internazionale di Catania che continua ad essere aperto e operativo.